Ciao, sono Giovanna Mazzon, VocalEssence Coach e fondatrice del metodo VocalEssence. Se non sai cosa è VocalEssence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction sempre all'interno della nostra rubrica di X-Factor 2021 di Edoardo Spinsante. Edoardo, questo ragazzo, produttore e cantante di questo inedito che si intitola Colore, interessante timbro anche se ricorda un po' ultimo come tipologia di timbro in alcuni punti. E poi in questi picchi importanti di voce più acuta dove sporca molto la voce e poi torna a una dinamica molto bassa sia da un punto di vista di volume che da un punto di vista di altezza. E quindi crea questo dare tanto volume e rimpicciolire che ti sposta anche emotivamente da tanto a poco e quindi ti trasporta dentro questo turbinio tormentoso che è anche quello che lui vuole trasmettere attraverso il testo e attraverso la musica e quindi lo fa anche attraverso la voce. E questo è interessante perché è un modo di interpretare comunque connesso con quello che è l'emozione che si vuole passare. Un brano che comunque ha in sé una storia che racconta sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista di testo. E il modo di cantare con questa tipologia di articolazione particolare che possiamo notare, lui fa vedere i denti superiori e porta soprattutto nelle parti più alte, più in alto il labbro superiore e anche gli zigomi per appunto agganciare più avanti il suono e non andare ad appesantire quella che è la laringe. chiaramente sporcando la voce un pochino ha perso il controllo in alcuni punti però quasi impercettibile. Molto interessante l'interpretazione, la seconda parte un po' più affaticato e infatti ha pulito un po' di più la voce rispetto alla prima parte ma ci sta nel senso che poi nell'insieme delle interpretazioni in un ambiente così ovviamente stressante anche dal punto di vista performativo ci sta che comunque si ha un controllo diverso rispetto magari a un concerto o anche una situazione dove non ci sono i riflettori su di te con le camere eccetera quindi è più che normale a prescindere da tutto questo trovo la sua interpretazione molto interessante fuori dagli schemi soprattutto l'occhio di riguardo ce l'ho sempre per quei brani inediti. Lui tra l'altro è anche produttore quindi ha creato lui proprio questo brano quindi tanta stima per chi appunto porta un brano inedito proprio perché la fatica e il contorno e anche solo l'emozione, il trasporto che metti a cantare un brano scritto da te è diverso dall'interpretazione di una cover dove bisogna sempre cercare una propria personalità dentro il brano sempre rispettando comunque l'autore che ha scritto quel brano. Perciò Edoardo, meraviglioso, fantastica interpretazione, secondo me un po' forse triste anche come mood però vedremo anche che cosa proporrà nelle prossime puntate, che musica nuova proporrà e come interpreterà poi anche delle cover sono molto curiosa, vedremo come procederà alla sua carriera. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, un commento e se ti va scrivermi anche attraverso i social dandomi la tua opinione su questo artista. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale youtube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!